Sventolari Tandoncini, so che siete pronti per una coreografia Sventolari Tandoncini, so che siete pronti per una coreografia Ho viaggiato tanto in tante città del mondo e io penso che l'isola pedonale è una cosa che alla città di Messina mancava Se dove è stata collocata non va bene, magari si può spostare anche altrove Però io penso che un'isola pedonale in una città è un tesoro, qualcosa di particolare Dove tutti possono andare a passeggiare Tutte le città bene o male hanno la loro isola pedonale, è un valore aggiunto Questo crea disagio, sicuramente per quanto riguarda il traffico Però i cittadini, siamo nel 2014, si devono adeguare a una direttiva europea Io sono stato anche in altre città all'estero e quindi le zone pedonali ci sono Sono state aree interessate del centro completamente chiuse ai veicoli